buongiorno allora sono tornata con un nuovo vlog che da un bel po che non li faccio e allora volevo dirvi quello che è successo anche se lo leggete dal titolo e avete visto la foto dell'anteprima però molti di voi mi avete chiesto e ovviamente mi avete scritto sia in privato su instagram che sotto nel video nello short non so come si dice quel video che dura 4 secondi 15 secondi da mettere al volo sul canale io non l'ho mai fatto e questa era la prima volta e loro ho detto ma così quasi avviso su youtube dato che su youtube quando fai video ora che li monti ora che le registri ci vogliono almeno almeno un giorno ci vuole dipende dal video per cui volevo avvisarvi anche su youtube e dato che me l'avete chiesto in tanti di quello che è successo come mai i video martedì e giovedì non è uscito un video e sono stata senza diciamo fare video perché appunto come avete letto dal titolo ho fatto l'incidente con la macchina e vi dico cosa ne penso la mia esperienza e si sono in bagno perché di là c'è casino scusate la posizione che fa cagare però non ho una posizione da appoggiarmi fa male il braccio a tenere il telefono allora preferisco appoggiarlo così vi parlo questo video di sicuro durerà un bel po voi ovviamente lo vedete martedì e poi giovedì ci sarà un altro video che dovrò montare però sono già registrati certi allora vi spiego in poche parole mercoledì 22 giugno ho fatto l'incidente con la macchina ero al lavoro stavo diciamo come sapete il mio lavoro è un lavoro in cui io mi sposto con la macchina non sono mai sempre fissa no perché io faccio i condomini e giustamente spostandomi con la macchina vado in tutti i paesi ed ero al lavoro a un certo punto a parte che poi vi lascio le clip che ho registrato vi faccio vedere le foto eccetera non tutte solo quelle che riesco a farvi vedere perché giustamente si vede anche la persona e per privacy non posso mettere tutto tutto vi metto solo quello che riesco e in poche parole stavo andando per fortuna c'ho la dash cam che riprende quando la macchina accesa riprende l'incidente sia davanti che di dietro in questo fatto è successo davanti cioè io stavo andando dovevo diciamo andare in una corsia un signore mi ha fatto passare col camion io giustamente non vendendo quell'altra corsia che passavano che poi sinceramente ho avuto ragione io e il signore ha torto per cui questo signore cosa ha fatto ha sorpassato le macchine con la moto io non l'ho visto perché c'era il camion che mi ha fatto passare nella mia corsia nella corsia diciamo che io dovevo andare ovviamente poi c'era un'altra corsia che tu appena ti fermavi nell'altra corsia dove aspettare le macchine che arrivavano oppure ti facevano passare in tutto questo per farvi capire io non ho visto la moto questo è andato contro mano nella corsia mia e l'ho preso in pieno allora lui essendo che se hai una moto fai un bel volo lui non dico che ha fatto un volo bello lungo per fortuna perché sennò quest'ora non c'era più poteva diciamo andare peggio perché calcolate che io per fortuna andavo piano 30 all'ora lui anche sui 40 però secondo me era un po briaco secondo me però non lo so credo che gli tireranno via i punti e forse anche la patente perché andare contro mano in una strada sapendo che non puoi sorpassare in moto perché molte persone lo fanno sinceramente per cui diciamo che non si può e lui l'ha fatto mi è venuto addosso ha fatto un volo un piccolo volo però l'ha fatto di sicuro si è fatto male le gambe ma lui dice di no che non si è fatto che non si è fatto proprio niente però nel mio parere lui era un po briaco per quello che dice che lui non si è fatto niente poteva andare peggio perché se lui faceva un bel volo e io andavo vabbè a parte che non sono una che va veloce quando c'è l'incrocio quando fa la rotta faccio la rotonda eccetera io sono sempre attenta faccio passare tutti quelli che attraversano c'è guai per cui non sono una che va veloce e alla fine appunto siamo stati lì dovevo andare a lavorare poi ho visato diciamo il mio responsabile dicendo guarda ho fatto un incidente non posso venire al lavoro per cui credo che oggi sarò tutto il giorno sia dall'assicurazione che a fare infatti ci ho messo un'ora per fare la costituzione amichevole dato che io non sapevo perché era la mia prima volta il mio primo incidente io giustamente compilare la costituzione amichevole non sono capace ci volevano tutti i dati eccetera allora ho dovuto chiamare mio il mio ragazzo e mio fratello che poi sono venuti e me hanno aiutato a compilarla e siamo stati più di un'ora lui come se non gliene fregava niente all'inizio gli importava solo dalla moto e continuano a dire ma cavolo adesso il mio moto distrutto qui lascio giù che poi non è vero perché la sua moto ha fatto solo dei graffi e in più gli è caduto solo sotto non mi intendo bene però sotto si è staccato qualcosa e basta ma adesso vi farò vedere le foto ma calcolate che la sua moto era proprio distrutta insomma da prima non da quando abbiamo fatto l'incidente per cui ovviamente però in tutto questo io non c'entro niente è stata colpa sua per cui c'è il rischio che credo che la patente gliela non ho anche tirata via da quello che c'è immagino perché non puoi andare contro mano io mi sono spaventata anche perché il mio carattere un po debole io mi sono tanto spaventata stavo tremando non riuscivo c'è all'inizio sono scesa dalla macchina va bella prima cosa che ho fatto ho visto se stava bene gli ho chiesto 300 volte se stava bene se era tutto a posto se si è fatto male poi dopo è arrivata anche l'ambulanza per vedere se tutte e due stavamo bene io l'unica cosa era il colpo che che mi sono presa infatti tremavo non riuscivo ero immobile come se hai visto un fantasma in poche parole per immobile tremavo diciamo che anche adesso c'è dopo quasi una settimana ormai è quasi passata una settimana perché poi lo vedete martedì per cui calcolate una settimana sono ancora un po sotto shock specialmente quando faccio sempre quella strada lì mi viene l'agitazione poi anche quando vado in macchina adesso sono molto ancora più agitata perché ci sono le moto e il bici le bici le moto i pedoni che vi assicuro scusate ma ho dovuto cambiare telefono perché non è possibile c'è è la memoria strapiena c'è proprio strapiena non riesco a registrare la clip l'altra clip c'è con la memoria strapiena mi giuro che spacco il telefono perché poi parli ad esempio come il video che ho fatto dei grattivinci ho fatto due parti diverse di grattivinci scoprirete che in quei due video non mi ha registrato le clip oppure si sono perse per cui non sono dei video come si deve però dato che volevo farvi vedere cosa succede al di fuori del della registrazione volevo farvi capire che succedono anche queste cose e non è facile per cui io ovviamente vi metto tutte le cose vere perché io sono vera e sono una semplice ragazza e vi faccio vedere quello che succede nella vita vera poche parole comunque adesso controllato un po la clip stavo guardando quello che stavo dicendo per cui volevo dirvi appunto era bellissimo discorso poi quando visto che non ha registrato mi è venuto non è appunto stavo dicendo di stare attenti quando andate in giro perché ci sono di quelle persone ad esempio qua dove abito io fanno dei sorpassi vanno nell'altra corsia ti sorpassano non stanno attenti c'è di tutto di più no per farvela in breve che non lo so per farvi diciamo per dirvi questo in poche parole se succedeva che questo andava veloce questo signor andava veloce e andava sopra la mia ad esempio la mia macchina che faceva un volo dalla madonna e cioè questo rimaneva secco uno poteva morire due c'è cavolo sai che la vita è una sola stai attento non sorpassare in una corsia che non devi farlo primo secondo potevo rischiare anch'io di andare in ospedale e dire cavolo per colpa di questo qua potevo anche non dico morire però calcolate che l'ho fatto con la moto ma se era con la macchina il mix o passava una macchina mi andava contro io potevo anche morire per farvi capire come successo un giorno che ho visto ho sentito un incidente che ha preso sul colpo ed è morta una ragazza di 25 anni giovane c'è proprio frontale perché questo scemo gli è andato contro mano di un'altra corsia non dava veloce contro uno cristo sia questa l'ha preso in pieno hanno fatto uno scontro alla ragazza è morta sul colpo per cui per farmi capire io per fortuna l'ho fatto con la moto che andava piano eccetera e anche io andavo piano però poteva succedere anche questo se era una macchina che sorpassava andava nella stia giustamente non so dove ero quest'ora per farvi capire per cui io faccio questo video appunto per fare capire alla gente di stare attenti andare piano cercare i limiti giusti e mi raccomando i telefoni sì io lo uso ma lo uso solo quando sono al semaforo quando sto ferma quando davanti e dietro non c'è una macchina non c'è nessuno quando io faccio le clip che non metto su youtube ma metto su instagram ovviamente vedendo le influencer vedendo le youtube vedendo le altre persone che fanno i video in macchina giustamente si è sbagliato copiare le altre persone però quando vedi ovviamente anche qualcuno che lo fa cioè alla fine poi ti viene voglia anche te di fare questa clip di 5 secondi metterla su instagram e ovviamente registrare col telefono queste cose non si fanno per cui anche lì il telefono in macchina non si usa io non lo uso il telefono lo uso solo se sono ferma semaforo rosso se davanti e dietro non c'è neanche una macchina e tantomeno anche se registro queste clip però sto sempre attenta intorno che cos'ho e ovviamente vado piano come vedete nelle clip su instagram quando registro con la macchina vado 20 30 all'ora anche di meno cioè non è che vado veloce per registrare una clip perché sennò quest'ora andavo in ospedale per farvi capire per cui anche il telefono mi raccomando non lo usate io adesso vi farò vedere le foto scusate se questo video durerà tanto però ci tengo tanto a farvi capire e che la vita va goduta è una sola e per colpa anche degli altri può essere che non ci sei più per cui io parlo in generale state attenti guardate quello che fate io ho ricevuto un commento sotto nel video che ho fatto che adesso ve lo leggo e vi faccio vedere non è bello e quando l'ho letto sinceramente ci sono rimasta perché io faccio video naturali al cento per cento per farvi capire giustamente la realtà è quello che succede quello che voi non dovete ovviamente fare per cui io ho messo il video questo qua tre giorni fa della macchina dove ho scritto fatto l'incidente con la macchina stranamente in tre giorni mi è venuto un colpo perché ho avuto 2312 visualizzazioni che non è mai successo l'ho fatto durare quattro secondi perché giustamente questi sono video brevi sotto in un commento uno mi scrive mi raccomando tra un po pubblicate le volte che trombate quando ho letto questo commento mi è venuto nervoso che non immaginate allora io ovviamente li ho scritto prima di tutto non mi conosci tanto meno non mi segui per cui secondo te il tuo commento è giusto a scrivere quelle cose te non hai di meglio da fare a quanto vedo dato che se tu sei su youtube allora cosa guardi video a fare io ho scritto così questo commento che mi ha lasciato questa persona non me ne frega del video del nome perché tanto pubblico per cui potete andare a vedere il commento ovviamente poi lo cancellerò ho ricevuto cinque non mi piace nel video non ho capito il motivo io so solo che vi spiego il motivo perché ho fatto questo clip a uno per avvisarvi perché giustamente giovedì non ho messo niente non ho pubblicato niente l'ho messo solo sabato il video per cui sono stata ferma il giovedì appunto per l'incidente uno perché ero traumatizzata due non stavo tanto bene proprio fisico di quello che è successo per cui volevo anche avvisare chi mi segue veramente c'è chi è scritto al mio canale chi mi segue perché ovviamente la gente era preoccupata anche perché ho scritto anche su instagram per cui le cose che succedono io le faccio vedere la realtà di quello che succede e tanto o meno per farvi spiegare anche in questo video il perché ho messo anche se non devo dare spiegazione a nessuno però per far capire alla gente usate il cervello quando andate in giro usatelo io quando io attraverso dalle strisce tonali io prima preferisco che non passa nessuno e poi vado poi se per caso ci sono tante macchine che non mi fanno passare inizio piano piano sto lì fino a quando una macchina non si ferma perché c'è gente che proprio c'è ho visto di quella gente che attraversa senza guardare come se niente fosse c'è una cosa esagerata che ho detto ma questa ma che poi c'è gente anche in mezzo la strada per farvi capire cioè io non ho parole non è assurda per cui io voglio farvi capire questo in più leggere questi commenti scemi pensate cavolo ma la gente non pensa a quello che scrive sotto i video cioè io sono una normale ragazza come voi che state guardando youtube c'è allora che cosa vuole fare youtube youtube serve per aiutare le persone a dare i consigli c'è ci sono tanti video scemi che vedo nel canale hanno un milione di visualizzazioni ma questo video scemi che non devono neanche essere su youtube e io ricevo questi commenti assurdi e non è una cosa da scrivere perché c'è uno anche da denuncia 2 scrivere queste cose che uno non mi conosci due neanche mi segue non mi segue non non mi segue su instagram mi segue su non guarda i miei video eccetera e tu mi scrivi quelle cose che neanche mi conosci io sono una ragazza semplice come voi e che faccio i video punto do solo consigli aiuto le persone c'è chi mi scrive in privato su instagram che non ha il coraggio di farlo sotto nei video io aiuto sempre tutti quello che in voi mi scrivete in privato io ho sempre aiutato tutti e c'è chi può testimoniarlo che seguo sia sul canale di sì chi seguo e sia giustamente le persone che io parlo in privato quasi tutti i giorni che ho conosciuto grazie a youtube e grazie i video cioè per farvi capire in breve per cui c'è dopo non scrivetemi che devo i commenti devono essere anche negativi ma che cosa vuol dire ma non devi scrivere una cosa del genere tanto meno scrivere un commento così negativo i commenti sono negativi solo se sono commenti giusti con per dire mi dispiace ma come mai hai fatto questo video questo è un commento non e adesso quasi quasi vedo anche che tu vai al cesso a cagare youtube serve a questo se no cosa serve a fare allora perché le persone guardano i video se no non li guardate i video c'è allora perché lui era su youtube e guardava il mio video perché perché ti interessa di quello che è successo perché se no non lo scrivevi per cui pensate a quello che scrivete anche sui social perché ricevo dei commenti assurdi che è una marina che c'è bu non lo so comunque scusate se ho parlato fin troppo adesso vi giro le foto qualche foto che ho fatto durante l'incidente che anche lì ero talmente agitata che non riuscivo neanche a farle fatto c'era il telefono che faceva così le mie maniche facevano così cioè non avete idea dello spavento e per cui vi metterò un pezzettino dove la gopro ha registrato non si vede bene l'incidente come si doveva vedere perché giustamente il la gopro ha preso le buche la macchina ha preso le buche e si è girata completamente la gopro si vede solo metà ovviamente se si vede la faccia di questo signore cercherò di toglierla senza farlo vedere perché è una cosa privata sono andata all'assicurazione ho fatto vedere la macchina dal perito l'ha controllata tutta e ho scoperto anche che ha preso il cerchione la gomma sia gomma che cerchione perché quando io mi sono girata con la macchina ovviamente ha preso anche quella e io non sapevo neanche che aveva preso anche quella più che mi devo cambiare tutto il pezzo hanno visto che io ho ragione hanno visto che è andato contro mano e per fortuna in settimana la macchina diventerà nuova e non sarò più così rotta sperando che non capiterà più queste cose per cui meno male che l'assicurazione mi ha dato ragione e che adesso mi metteranno posto la macchina per cui avrò una macchina sostitutiva mi raccomando seguitemi su instagram che li vedete tutto perché io pubblico tutto ma proprio tutto ogni giorno quello che faccio perché i social servono questo che cosa servono i social se nessuno pubblica quello che fa per cui questo è adesso vi faccio vedere quello che ho comprato e poi non so se mettervi a fine video quello le cose dell'incidente e poi vi faccio vedere quello che ho comprato adesso vedo perché appunto questo è un video lungo ma per far capire a molte persone di stare attenti perché la vita sia quella degli altri che la vostra è tanto per cui vi dico questo per questo attenti se la vostra vita non ve ne frega niente almeno pensate a quella degli altri pensate che la vita c'è gli altri la vogliono vogliono esserci di presenza e non morire per colpa appunto degli altri per cui pensate spero che questo video blog un po chiacchierino più o meno vi piace e scrivetemi sotto qua nei commenti se anche voi avete fatto incidenti se anche voi è successo sta cosa e cosa ne pensate i commenti cattivi brutti verranno eliminati bloccati perché non è una cosa da scrivere sinceramente punto comunque adesso vi farò vedere gli acquisti che che ho fatto in questi in questi due giorni in questo week ve li faccio vedere All I want 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 Allora, sono andata dallo spaccio dei dolci, che è questo il sacchetto, ho comprato sia questo che questo, e poi sono andata al Bennett e vi faccio vedere cosa ho preso. Questo sono di meno, per cui vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, ho preso questi, che sono le gocciole al cocco, queste sono buone perché le ho assaggiate e sentono il cioccolato fondente e cocco, sono molto buone, ve le straconsiglio. L'ho provato una volta, erano in promozione a 2 euro e qualcosa, ma costano sui 3-4 euro. E calcolate che il pacco è poco, sono 320 grammi, però è buono. E ho preso sia questo, poi ho preso la Red Bull perché volevo la Red Bull, sinceramente. E ho preso questo qua, poi ho preso questo, che lo volevo provare, poi vi farò sapere com'è. Questa è della Monster Punch, in argia. Questa qua ha 89 centesimi, era in promozione. Questa è un euro e qualcosa. Poi per fortuna ho trovato le cicche, dopo 3-4 settimane ho trovato le cicche di Chiara Ferragni. E vi farò sapere anche questi se sono ottimi. Sono blu, dicono che hanno il... Io sorriso bello splendente, ma su queste cose non ci credo. Comunque ho preso queste, poi ho preso le cicche del calciatore Ibrahimovic. Questo qua che ha fatto le cicche, allora questo è 3 euro e qualcosa, anche queste 3 euro e qualcosa. E l'ho voluto provare, anche il mio ragazzo li voleva provare. Questo qui è energia per la tua mente. Si costano un po', ma vediamo se sono buone. Vi farò sapere anche su Instagram, per cui seguitemi. Poi ho preso questi due. Allora, dopo un po' che le ho viste ho detto, vabbè, le voglio provare. Allora, costano tanto, perché 10 euro. È praticamente un correttore fondotinta insieme, che idrata. E ho preso questo qua della Garnier, sia chiara, che non ho resistito. Ho preso anche questa, quella medio chiara. Non so, adesso li proviamo sulla mano, vediamo quale va bene di colore. L'ho presi tutte e due, perché una è classica e l'altra pelle da miste e grasse. Per cui non ho resistito. 20 euro solo per questi due. Un po' i prezzi, me ne ricordo. Totale 30,90 euro. Per cui 9,90 euro. Calcolate. E per cui vi farò vedere e adesso le proviamo insieme. E queste sono quelle cose che ho preso al Bennett. Poi ho preso anche la lattina, questa qua che ho già bevuto, questa è buona. L'ho fatta vedere su Instagram. Della Mangoloco. Non è male. È carino. Cioè, è buona. Carina. Adesso che se quelli proviamo agli swatch insieme. Invece, allo spaccio dei dolci, che mi si è rotto il sacchetto, ho preso. Ho trovato i baci perugina di dolce gabbana, amore e passione. Finalmente, dopo tanto, li ho provati. E dicono che sono buoni. Questo l'ho pagato 10 euro in promozione. Per cui vi farò sapere, anche su Instagram, se sono buoni. Allora, totale, vi farò, vi dico, 38,23. Poi ho preso le ciambelle. Queste qua rosa, ho trovato. Non lo so come sono. Anche queste vi farò sapere in un video. E ve le farò vedere. Vi farò vedere anche come sono fatti. Poi, ho preso. Perché c'erano tante caramelle. Il panino, i zizzelle della Trolli. Cioè, guardate che bello. Dovrei fare un vlog. C'è un vlog, un video su mangiare tipo queste caramelle. Questo qua non mi ricordo. Quanto l'ho pagato. Ma dovrebbe... Vabbè, ora che lo trovo il prezzo. Facciamo così. Ve le metto di fianco qua, così almeno sapete il prezzo. Poi ho preso questo qua, che è il Chupa Chupa dei Minions. E dentro Tobi Minions. Poi lo apriamo insieme, vediamo cosa troviamo dentro. E se per caso è carino, ne comprerò altri per fare la collezione. E questo qua su un euro... Un euro e qualcosa. Un euro forse... No, un euro e 75, 79. Questo. Poi ho preso la bottiglia drink alla mela. L'ho presa perché sta bottiglia all'unicorno è troppo figa. Cioè, non potete capire quanto è bella. Ma sai perché ho preso anche questa? Perché ho pensato a una ragazza che fa questi video dove apre anche le caramelle e queste cose dove trovi questi... Diciamo... Non mi viene il nome. Comunque, ho pensato, dato che ho visto l'unicorno, a Saramagic15. Non so perché. Ma ho pensato a lei quando ho visto questa bottiglia e anche i Chupa Chupa che trovi dentro i regalini. E allora ho detto, vabbè, li prendo. Comunque vi farò sapere se è buona. Poi ho preso questa. La pizza c'è. Guardate. No, vabbè. La pizza... Ho preso questa perché mi piaceva il cartone. E ho preso questa qua. Questa, bu... Qualcosa, un euro e qualcosa. Comunque faremo video assaggi delle caramelle, sinceramente. Poi ho preso questa. Bibagol... Big... Ah, vabbè. Questa che colora la lingua. E la proveremo nel video. Poi ho preso questa caramella, sempre però alla marshmallow. Hop... Questa che è una figata, la birra, caramella la birra. Cioè, guardate che bella. Troppo figa. E allora ho preso anche questa. Poi ho preso la Cicca Ball. Che è anche questo, quello che ti colora la lingua. E l'ho presa verde. Poi l'ho presa rossa e blu. Rossa e blu. Che poi anche queste e quelle proviamo a vedere se coronano la lingua. Poi l'ho presa un'altra blu per il mio ragazzo. E poi ho preso questa, la Sur Boom. Sempre della Bib Bubble. Rosa. Dato che ne ho viste diverse, l'ho presa tutte per provarle. Poi ho preso queste gomme che si chiamano Planet Goom. C'è l'ananas e limone, pera, lampone e arancia. E ovviamente li proveremo nel video. Che sono questi qua. Costavano anche di meno, eh. Per farvi capire. E poi questo. Che è questo 10 euro, me lo ricordo. 10 euro, 8 pacchi. E dentro trovate liquirizia. Quella normale. E Ciro, non so come si dice. E l'altro. In poche parole. Ovviamente anche questo vi farò sapere. Nel video. E adesso vediamo se c'è un altro. No, questo lo scontrino. Basta. E poi per finire, questa scatola. Invece di 5 euro, l'ho pagata 3,50 euro. Questa l'ho presa per la casa nuova. Perché ho la macchinetta del caffè. E allora ho visto il kit. E ho preso questi bastoncini per girare, diciamo, il caffè con lo zucchero. Sono due pacchi. E poi i bicchieri piccolini di plastica. Così quando arriva qualcuno, quando non hai voglia di lavare, giustamente gli fai, gli prendi questi bicchierini di plastica. E che sono due. Fatti così. E poi c'è lo zucchero. Dove ci sono le bustine. Che hanno praticamente la scritta delle frasi. In poche parole, ad esempio, non permettere alla lingua di oltrepassare il pensiero. Oppure questo, che è il motivo per cui non è facile alla gente vivere in pace. Sta sul suo troppo sapere. Nel troppo sapere qualcosa del genere. E questo è il kit che ovviamente sarà per la nuova casa. Queste sono le cose che ho comprato. Fatemi sapere se volete un video assaggio delle caramelle. Che secondo me è anche interessante. E se per caso vi piacciono questi video, comprerò altre caramelle che ho visto nel negozio e che vi ho fatto vedere veloce. E le proveremo insieme. C'era anche la bottiglia di topolino all'ananas, mi sembra. Però non l'ho presa perché ho detto provo queste e poi vediamo. Per cui voi fatemi sapere lo stesso. Adesso proviamo a sguacciare questi due veloci. E basta. Tutte le altre cose poi vi farò vedere sia su Instagram, per cui mi raccomando seguitemi, che vi dirò una a uno se sono buoni. E poi ve le farò vedere anche in un altro video. Allora, intanto iniziamo a aprire le confezioni. Allora, dato che non riuscivo con una mano a farvelo vedere. Allora, vi faccio vedere, non so se si vede, perché sto telefono fa un po' cagare. Lo swatch. Allora, quella light classica è questa. Metti fuoco. Non si vede bene. E questa qua comunque. Invece l'altra che è un po' più che quella blu, light, è questa qua. L'ho messa anche sul braccio. Però giustamente non si vede niente con sto telefono. Allora, vi dico che dalla mano, secondo me, è meglio light. Questa qua classica. L'altra, secondo me, è un po' più scura. Ovviamente la devo provare nella faccia. Qua dice prima e dopo. Boh, vi farò sapere. Comunque, l'odore è buono. E secondo me anche idrata molto, secondo me. Da quando l'ho applicato sul braccio, secondo me è ottimo. Non lo so. Comunque, quando la proverò sulla faccia, vi farò sapere se sono ottimi e se ne vale la pena spendere 10 euro. Comunque, boh, sembra... Secondo me è molto più chiara. Non so se si vede la prima. E' molto scura la seconda. Per cui, non lo so. Comunque, vabbè. Ma sto telefono non è che si vede tanto bene. Vabbè, queste sono le cose che ho comprato.